è cambiato qualcosa nell'aria sarà forse anche merito del fatto che molti di noi sono riusciti ad andare dal parrucchiere in questi ultimi giorni no sto scherzando però è vero che c'è qualcosa di diverso nell'aria in questi ultimi giorni qualcosa di diverso rispetto alle concitate drammatiche settimane che ci siamo lasciati alle spalle non è soltanto il fatto che siamo ormai in questa fase 2 avanzata le strade si sono riempite c'è come dire una quasi una parvenza di normalità ma diciamo che è come se i dibattiti le discussioni i contrasti si fossero un poco acquiettati non c'è più quella tensione fra i negazionisti e i tragici ci sono ci sono meno discussioni sui media nei social network è vero che forse una parte delle ragioni di questa calma apparente sta nel fatto che siamo tutti più propensi per un verso ad alzare lo sguardo verso il cielo che è sempre più azzurro è sempre più bello soprattutto dopo che ti è stato negato per settimane per l'altro guardiamo e tendiamo molto più di prima a guardare per terra a prendere le misure le distanze fra noi e il prossimo e sempre di più troviamo per terra dei segnali adesivi o anche solo delle tracce di dei festoni dei segni che ci indicano dove stare e quanto tenerci distanti dagli altri stiamo prendendo le misure del nostro corpo e di quello altrui e questo è un lavoro impegnativo che richiede come dire un po' di di pace intorno a noi ma io credo che il motivo anche di questa specie di sospensione del dibattito sia anche in un sentimento dominante che abbiamo tutti adesso che forse prima non avevamo prima c'era la paura prima c'era lo sconforto adesso c'è l'attesa l'attesa di qualcosa che si spera vada nella direzione giusta è come se tutto fosse sospeso ad aspettare di tornare a una normalità e poi a quale normalità l'attesa anche di colmare queste distanze dal prossimo e di smettere di salutarsi con il gomito di frenarsi giusto un attimo prima di abbracciare un congiunto o non un congiunto l'attesa è un sentimento impegnativo è uno stato d'animo è una condizione non non semplice anzi molto complessa che ha tante tante sfaccettature tanti volti e tanti modi di essere io credo che l'attesa sia un requisito una virtù ma più che una virtù uno 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 stato di coscienza un modo di essere anche tipicamente femminile le donne hanno saputo ed è esercitare imparato ad esercitare l'arte dell'attesa nei suoi nei modi più vari e soprattutto non di rado sono è stata un'attesa e come dire imposta imposta alla condizione femminile alla reclusione della donna e a tutte le immaginazioni che ha subito nel corso della storia quindi non so se sia una virtù l'attesa ma certamente è un requisito un carattere non innato ma acquisito nel dentro la condizione femminile ed è proprio alle donne che il circolo dei lettori sta dedicando e dedicherà le giornate intorno al al 2 giugno la nostra festa nazionale che non è solo la ricorrenza in sé ma dovrebbe essere anche questo uno stato d'animo che ruota intorno a quel momento cruciale della nostra storia abbiamo deciso di dedicare alle donne il 2 giugno e tutto ciò che sta intorno a questa data un po perché ci siamo persi per strada l'otto marzo la festa delle donne che quest'anno è caduta proprio all'inizio della reclusione in un momento di grandissima incertezza e di disorientamento e quindi ce lo siamo un po perso per strada questo 8 marzo ma anche perché è fondamentale pensare a quelle donne che il 2 giugno del 1946 non dimentichiamolo hanno votato per la prima volta nel nostro paese e quindi il circolo vuole celebrare le donne e lo farà e lo fa e lo ha fatto a seconda del giorno in cui guarderete questa mia questo mio piccolo spazio di casa e pensando proprio a questo a questo a questa ricorrenza il fatto che la festa nazionale quella che sancisce la nascita della nostra italia democratica e repubblicana è anche una giornata fondamentale per le donne e in questo senso noi vogliamo pensare non solo alla storia come memoria come ricorrenza celebrazione che si ripete ogni anno ma anche il tentativo di uno scatto di sentimenti per provare a immaginare che cosa hanno provato le donne quel giorno del 1946 in cui votarono per la prima volta le nostre madri costituenti cioè coloro che fecero parte del primo parlamento italiano repubblicano e democratico ma anche tutte quelle che andarono a votare quel giorno per la prima volta giovani o vecchie che fossero e quindi cerchiamo di metterci nei loro panni e di immaginare l'emozione l'attesa la trepidazione e il senso d'orgoglio e anche di rinascita che segnò quella giornata e quelle settimane intorno a quel giorno fatidico e fondamentale per tutti noi e per tutte noi grazie 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 grazie